Siamo qui ospiti dell'azienda, vediamo la nuova gamma per questo autunno 2013, posa porta indotto. Dopo la famiglia Scout Ergonomic, pensata per essere bella da vedere, bella da usare, ergonomica e quindi molto utilizzabile per esempio nel quotidiano, abbiamo anche mostrato la famiglia Scout Comfort, ossia una famiglia più economica, parliamo di fascia media sia tastiera che mouse, quindi avete un kit completo, vendibile separatamente sia tastiera e mouse o se volete solo un pezzo, tuttavia pensata per essere una famiglia appunto da scrivania, passiamo adesso all'elemento Scout Mobile, pensato essenzialmente per chi lo utilizza per esempio abbinato ad un ultrabook, abbinato a un prodotto facilmente trasportabile, per esempio in treno o in aereo. Detto ciò lasciamo la parola all'azienda, vi mostriamo quindi una presentazione ufficiale, dopodiché ci metteremo le mani sopra con un attimo di calma. Hai perfettamente ragione, questo mouse che è stato studiato per la portabilità, hai fatto a dimensioni ridotte appositamente per essere portato con sé molto facilmente. Come si può vedere è un mouse simmetrico, quindi può essere usato anche da queste mancine senza altro problema. Il design è lucido, moderno, innovativo e presenta come tutti i nostri nuovi mouse il pulsante Windows 8. Ricordo che il pulsante Windows 8 richiama la schermata start e invece nel sistema operativo Windows 7 richiama il menu start, per cui è utilizzabile anche sul sistema operativo precedente. La rotellina a scorrimento orizzontale e verticale come tutti i nostri nuovi mouse e la connessione è con il ricevitore USB 2.4 GHz che è alveggiato dal di sotto del mouse e facilmente estraibile tramite l'apposito pulsante. Inoltre è presente un pulsante di accensione e spegnimento che consente di risparmiare la batteria con una migliore durata. Il tracciamento di tutti questi mouse è più track, tecnologia proprietaria di Microsoft che consente il loro utilizzo su qualsiasi tipo di superficie. La particolarità di questo mouse è il fatto di avere più colorazioni, quindi esce in nero per un utilizzo classico tradizionale, in blu per chi sceglie l'eleganza, oppure anche in rosso, in rosa chiaro per chi preferisce avere un colore un pochino più allegro. Il prezzo di questo prodotto è 29,90€. Sono già disponibili sul mercato, il fatto di avere poi il mouse di colorazione diverso, per esempio potrebbe venirvi in aiuto nel momento in cui magari siete una donzella e gradite abbinare per esempio cromaticamente con alcuni portatili che escono appunto nella nuance rosa oppure rossa. Per esempio pensiamo ai Vaio di Sony oppure ai Fujitsu Famiglia U dell'azienda. Detto ciò, con questa rapida panoramica sull'Oscalt Mobile la si può chiudere così. Si ringrazia l'azienda e si ringrazia a voi per l'attenzione. Io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a seguirci quindi su permobiles.info e tutti i canali social che trovate elencati in fondo al video. Se ancora non ci seguite iscrivetevi in massa, ora è tutto. Ci si vede online a presto da Giuseppe Ragazzino. Grazie a tutti.